Dovevi per esempio allungare, allungare il tiro in modo da vedere se effettivamente quel colpo che era finito, unico, era finito sull'obiettivo se effettivamente era un colpo giunto, un colpo corto, un colpo lungo. Allora tu davi l'ordine di fare un colpo lungo e se era poi lungo allora poi ti regolavi, facevi la concella, facevi sparare un colpo sicuramente corto e se questo tu nel binocolo io lo vedevo, Hai visto papà che lui ha cominciato a pitturare la camionetta? Fagli vedere la camionetta che hai cominciato a colorare. È una brutta vestita, penso, penso al titolo. Di alcuni posti c'è ancora una guerra? Eh, purtroppo sì, di alcuni posti c'è ancora una guerra. Per fortuna da noi non ci sono una partita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.